Chiunque abbia occhi per vedere deve riconoscere che la profezia ora studiata intorno alle due bestie di Apocalisse ha già ricevuto un principio e più che un principio di adempimento. Quando nei primi secoli dell'era nostra la Chiesa vide penetrare nel suo seno un numero sempre maggiori di pagani inconvertiti e il risultato di quella mescolanza fu il cattolicismo. Quando la riforma venne a rimettere in luce il puro Evangelo il paganesimo si mostrò più crudo e si pose a combattere la verità cristiana con un ardore nuovo. La vernice di cristianesimo che ricopriva il mondo moderno cadde e sta accadendo sempre più. Lo spirito del falso profeta sfrutta il mondo dandosi libero corso sotto i nomi di filosofia, di progresso, di cultura, sistemi seduttori che sollecitano l'orgoglio umano ma rodono come cangrena. Razionalismo, materialismo, deismo, panteismo, ateismo ed altri ismi sono della stessa famiglia, sono errori procedenti dalla medesima tendenza a lasciare da parte lì Dio vivente e santo per glorificar la creatura. Si è cominciato col far scendere la parola di Dio dal posto suo donore facendone un libro come un altro, poi si è fatto del figliuolo di Dio un uomo ordinario, da ultimo si è abbassato Dio al livello della natura e l'uomo a quello degli animali. Quanti sono oggi tenuti lontani dal Vangelo, dal prestigio della scienza? Si ha paura di passare per ignorante se si crede, e sono pochi quelli che comprendono tutta l'estensione e la profondità del male. Ove sono le anime che misurano tutta la perversità, la follia, la degradazione di un secolo che considera il panteismo come suprema sapienza. Quanti errori, nei campi più svariati, sono eretti ad assiomi. I sistemi filosofici e scientifici degli uomini hanno quasi ovunque soppiantato, nella pubblica opinione, il magnifico sistema del mondo contenuto nella parola di Dio. Quel che ci fa soprattutto difetto è il timor di Dio. Il senso morale ha perduto la sua forza. Viviamo tutti in un'atmosfera avvelenata, già che un'intera generazione può benissimo essere colpita da cecità. Se dunque, per resistere alla prima bestia occorre costanza e fede, per resistere alla seconda conviene armarsi di sapienza.